buonanera questa è bella eh si eh se piace a te ma quanti italiani quanti italiani vorrebbero baciare questo zio così Gerry Scotti Michelle Unziger chi ha incastrato lo zio Gerry venerdì alle 21 su canale 5 riparatevi a un grande evento da 4 salti in padella alle mezzelune giganti extra con funghi e tartufo grandi nel ripieno, grandissime nel gusto extra di 4 salti in padella extra large, extra buone affrettatevi, è un'edizione limitata shh, shh, ascoltate questo è il richiamo della cinciarella è rarissimo poterlo sentire in questo periodo scusate ah eccolo pronto? alcune cose sembrano naturali ci mangiamo qualcosa? altre lo sono davvero Kinder Cereali è semplice come lo vedi fatto con cereali, latte e buon cioccolato ah però Kinder Cereali semplice come lo vedi certi gesti possono sciupare seriamente i nostri capelli la nuova linea Davin Tense Care nutre i capelli in profondità ad uno ad uno li ripara, evita le doppie punte e li lascia morbidi, setosi bellissimi nuova linea Davin Tense Care questa è una sigla salve le persone hanno cinque dita una, due, tre, quattro e cinque possono usare il pollice per digitare 1299 sul telefonino possono usare l'indice per digitare 1299 sul telefono di casa il medio? no, non sta bene pertanto se cerchi un numero di telefono chi chiami? il? 1299 è ovvio il parmigiano reggiano stagiona da 12 mesi a più di due anni e più stagione più esprime sapori ed aromi unici da sempre si fa in modo artigianale e viene controllato forma per forma parmigiano reggiano non si fabbrica, si fa tappetino musicale chicco fa crescere il senso della musica il senso dei dentini il senso della scoperta e persino il senso della morbidezza tappetino musicale chicco per crescere in tutti i sensi i flauti hanno un segreto una farcitura unica fatta solo con gli ingredienti migliori in una pasta morbida e leggera a cui proprio nessuno può resistere neanche Luca mulino bianco scegli un mondo genuino sei proprio sicuro di voler pagare ogni volta tutto quello che vedi? con un abbonamento Sky invece sei libero di scegliere tutto quello che vuoi perché solo con Sky le emozioni non si contano scusi, lei è l'ultimo? certo ah, meno male così il primo sono io eh no, il primo sono io l'ultimo, il primo vuole essere tutto lei chi è il primo? non vado pazzi la mia banca è differente banca di credito cooperativo differente per forza allora qual è la vantaggiosa offerta infostrada per telefonare da casa? asolo Happy No Limit con 19 euro e 95 centesimi al mese puoi parlare in tutta Italia senza limiti per sempre ma soprattutto senza pagare Arcano e Delegio esatto non ci sono più i programmi da volta una volta eravate più brave Mike guarda sono in bianco e nero che è successo di nuovo? è terribile Happy No Limit parli senza limiti con tutta Italia chiama il 159 lui dice sempre niente ma io so che a scuola fa tanto per questo gli do Kinder Brioche l'unica con la doppia farcitura al latte in un pane lievitato naturalmente Kinder Brioche nutriente ma leggera dici niente vecchia Romagna intense emozioni Maria Callas un talento naturale eccomi una storia sofferta nessuno sarà tenero con lei mi credo per arrivare al successo una vita dedicata all'arte e all'amore nessuno però potrà togliere nemmeno tu la grande storia d'amore che scandalizzò il mondo Callas Onassis potrei anche chiedere il divorzio papà con Luisa Ranieri Gerard Armand Serena Autieri Anna Valle regia di Giorgio Capitani volevi la Callas l'hai avuta voglio di più domenica alle 20.40 e lunedì alle 21 in prima tv assoluta canale 5 con tutto relax di Tim anche il telefonino UMTS è gratis era ferito